c'è bene a te rimuole c'era purtroppo però tutto non ce la faccio tanti ci aspetta fa tutto da noi parecchie ragazzi c'è sa fare tutto a te rimuole e grande con lui è la redenzione egli redimerà Israele da tutte le sue colpe l'anima mia spera del Signore porgin' orecchio Signore misericordioso alle preghiere che umilmente ti inazienda ho sentito il dolere di essere qui tra voi a portare la testimonianza della regione più di Venezia Giuse in un paese che non sarebbe mai voluto sordere perché le comunità dovrebbero sempre nascere e crescere su un impulso di vita e non come conseguenza di inti e disperazione distruzione di due e tre comunità al lutto, alla sofferenza e allo traditamento dei sopravvissuti come viva è l'acqua che è zampita da questa fontana così dovrebbe rimanere vivo e vivido in ricordo della sofferenza di questa popolazione negli anni successivi alla tragedia ma anche, nello stesso tempo la fragilità di un territorio che non cessa di gestare preoccupazione e al quale vogliamo dedicare il rispetto che in passato mancò perciò, nel commemorare il disastro